Ciao ragazzi, un saluto da Calciotoro, un video post partita di Torino, Lecce 1-2 in favore della squadra del Sud a cui comunque faccio subito i complimenti per l'ottima partita svolta in trasferta al grande Torino veramente un grande Lecce con Falco che fa le buche ragazzi, veramente un grandissimo giocatore, un vero numero 10 probabilmente soprattutto fondamentale per una squadra che lotta alla salvezza un Babacar comunque convincente, un Lapadula che lotta, che gioca per la squadra, gioca di sponde, comunque interessante un Rispoli che ha totalmente travolto la Haina francamente, un Farias rapido e imprevedibile e una retroguardia che dura, regge, regge anche bene a parer mio detto ciò, discorso Lecce chiuso, non parlerò più del Lecce in questo video ma si inizia a parlare del Toro allora ragazzi, partita vergognosa? sì, partita vergognosa perché non si può obiettivamente, oggettivamente, anzi difendere una prestazione di questo calibro contro una neopromossa che nelle prime due giornate non ha dimostrato assolutamente nulla sì, sprazzi di buon gioco a San Siro contro il Verona, zero, totale è Verona che ha vinto meritatamente in trasferta poi insomma è l'occasione della vita per stabilire nuovi record, raggiungere nuovi punti in classifica lanciare anche un segnale importante per la stagione a venire e alla fine il risultato è questo ed è il solito Torino ragazzi il solito, non cambieremo mai purtroppo veramente questo è un duro colpo da digerire ragazzi è davvero difficile per me fare il post partita di Torino e C1 a 2 allora, cos'altro c'è da dire? dai, proviamo a lanciare, a dare altre considerazioni parliamo dei singoli parliamo dei singoli allora dunque, Sirigum colpevole sui gol sono tutti dei tap-in lui comunque è stato anche abbastanza decisivo prima dei tap-in poi anche sul tiro di Babacar comunque un tiro abbastanza chirurgico bene, Sirigum insomma, solito Sirigum l'ho trovato sicuro anche in diverse uscite di conseguenza nulla da imputargli Bonifazi e Izzo benissimo soprattutto Bonifazi mi ha colpito molto è un difensore moderno un difensore che sbaglia talvolta ma coraggioso dato di grande tecnica fisico, francamente una delle più piacevoli sorprese di questo inizio anno mentre Cicino può coordinare la difesa ma è una cosa che non devo stare a dire io cioè io avrei preferito un Bremer per dirti un Bremer fa giocato tutte le partite dei preliminari di Europa League alcune bene, altre in cui ha fatto alcune sbavature sicuramente lo metti in centrale di difesa è rischioso? sì, lo è ci metti lì anche meglio molto meglio ma Cicino ragazzi cioè Cicino può coordinare la difesa è andato di fatto contro l'Atalanta anche diverse sbavature a molti è piaciuto Cicino grande Cicino ma Cicino cosa? cioè si è perso zappata nel gol del 2-1 che per carità bellissimo ma si è fatto fregare come un pollo gol del 1-0 anche se l'è perso cioè ragazzi Cicino non lo so se a voi vanno bene i giocatori come Cicino ditemelo ditelo subito passiamo al centrocampo passiamo al centrocampo a 5 centrocampo a 5 3-5-2 ancora ma di questo a questo ci arriviamo dopo perché poi voglio dare anche un voto a Mazzarri forse alla squadra in generale dai dunque i titolari li conosciamo benissimo o Laina sulla sinistra malissimo oggi malissimo a parte qualche spunto magari interessante nel corso del primo tempo ma neanche francamente male male veramente disastroso si vede che non gioca al sinistra Mazzarri la rivela io ho detto più volte che non può stare a sinistra e di fatti io concordo con Mazzarri però a questo punto mi chiedo del perché non sia stato schierato l'Axalt cioè ragazzi l'Axalt ha fatto un partitone Verdi ha fatto un partitone è vero hanno giocato poco non scrivetemi ma hanno giocato poco nei commenti e vabbè hanno giocato poco ma Verdi ha fatto il triplo se non il quadruplo di quel bidone di Berenguer bidone bidone è scarso fa schifo Berenguer non può giocare nel Torino appunto non mi interessa se lo vedessi di faccio gli direi se è scarso vattene via se lo vedessi di personale cioè è scarso ragazzi è scarso Berenguer ma cos'altro vuoi dire cioè la partita contro l'Atalanta poi tutti bravo Berenguer è un fuoco di paglia è scarso è scarso io lo dissi e non mi vanto neanche perché madonna ste farfalle oh scusate per questa interruzione mi si posano sulle ginocchia cos'altro è scarso punto stavo parlando in Berenguer scusate per questa interruzione veramente più che incazzato sono anche deluso poi c'è Rincon assente Rincon ha giocato Rincon tra l'altro non è che ha giocato male o bene è stato totalmente assente convolto poco nella manovra qualche intercettazione qualche passaggio errato insomma non è un fantasista non è un giocatore tecnico lo sappiamo bene più di grinta più corsa più fisico qualche contrasto aereo vinto insomma abbastanza assente di dare un 6 politico 5 e mezzo 5 insomma non si va oltre 6 sicuramente Baselli Baselli primo tempo ottimo secondo me uno dei migliori secondo tempo disastroso calato totalmente 0 inventiva 0 gioco passaggi sbagliati totalmente perde palla facilmente pressato va in crisi insomma Baselli non può giocare né nel ruolo di playmaker né nel ruolo di trequartista boh non lo so il giocatore è abbastanza dubbio da identificare ancora bene perché non si capisce questo Berenguer e Berenguer scusate Baselli che cosa può fare realmente quali sono le sue potenzialità se può arrivare a determinati obiettivi determinati livelli mi scuso ancora per l'inquadratura ragazzi però si fa un'eccezione ancora per oggi detto questo a chi siamo arrivati Baselli quindi si parla di madonna ste farfalle che figura è merda con ste farfalle De Silvestri Lollone Lollone Silvestri insufficiente anche lui ma cosa mi combini Lollone ho saltato Meite dopo ci arriviamo a Meite anche lui il giocatore è pazzesco Lollone dai ragazzi non so se è entrato ancora in condizione fisica non so se ha perso un po' lo smalto di un tempo la scorsa stagione ha fatto snì secondo me non troppo bene ma ragazzi è un giocatore che non può stare titolare nel Torino secondo me adesso secondo me è un buon giocatore come riserva ma ho tantissimi dubbi su De Silvestri in efficacia è a Bergamo in efficacia è in Europa League ha segnato il gol di testa cioè di testa è buono questo sicuramente va detto è bravo negli inserimenti ma macchinoso macchinoso questo è insomma il termine adatto per definire Lollone macchinoso macchinoso perché non è rapido non è tecnico certo i cross qualche volta ne sforna sforna bei cross però francamente bu un grande punto interrogativo meite ragazzi meite madonna meite un bidone pure lui ragazzi però non mi sento non mi sento di criticarlo troppo questa partita perché ha fatto diversi errori tantissimi ma quantomeno 2-3 lanci li ha azzeccati e soprattutto ha fatto un'azione che mi è piaciuta molto dove ha resistito il fisico a tutti gli attacchi del Lecce per poi servirla sotto Adolaina che poi ha perso palla quindi di conseguenza a tratti mi è piaciuto anche meite però meite è il solito meite scazzato a tecnica potrebbe fare è intelligente ma non si applica mai passiamo all'attacco passiamo all'attacco velotti e velotti insomma non c'è nulla a dire sul capitano ragazzi ha fatto la solita partita da 6 e mezzo 7 rigore segnato anche rigore che poteva essere procurato e francamente se hai dato il primo davi anche il secondo però dovrei rivederlo più volte era veramente una scelta difficile ho compreso la decisione dell'arbitro di stare comunque tanto a vedere il VAR perché poteva essere assegnato come no forse vedendo i metri di giudizio con cui hai segnato il primo avrei assegnato anche il secondo vabbè comunque rigore non dato quindi non attacchiamoci a questo oltretutto perché la partita è stata disastrosa mi hanno fatto totalmente cagare lo dico venutamente Zazza ha cambiato totalmente ha dato una svolta al match e mi chiedo perché non abbia giocato e qua arriviamo a Mazzarri cioè Mazzarri 4 4 io non ho il patentino ok sono un normalissimo tifoso però ho opinioni a riguardo però riesco ad analizzare insomma le partite e riesco a dire due o tre cose basilari a cui arriverebbero tutti cioè 3-5-2 con le piccole non va 3-5-2 non è un modulo difensivista diciamo cioè sì nella maggior parte dei casi sì è un modulo di ripartenze è un modulo di chiusura di dietro se è una difesa solida e qua non ce l'avevi partiamo da questo presupposto è un modulo che l'anno scorso ti ha dato gli stessi identici problemi perché l'Atalanta l'hai massacrata perché il Milan l'hai massacrato perché l'Inter l'hai massacrata e poi e poi hai perso col Parma e poi hai perso col Bologna in casa che avevano un modulo propositivo che ti attaccavano che creavano gioco e tu cercavi di annullare il loro gioco come se fossero delle big come se fossero delle squadre contro cui devi per forza giocare di ripartenze ma è ridicolo ma che scelta è il 3-5-2 Walter ma è completamente sbagliata errata totalmente non sta né in cielo né in terra il 3-5-2 Walter e non mi venite a dire che non c'era una soluzione a Zazza che poteva far coppia con Belotti con Berger trequartista se proprio non volevi schierare Verdi dall'inizio perché non in condizione fisica mettevi Berger trequartista e facevi un 3-4-1-2 si Berger è un bilone lo rivadisco ma sicuramente più propositivo e più utile di un 3-5-2 cos'altro c'è da dire c'è da dire che 3-4-3 potevi anche attuare con Berger Verdi dall'altra parte cioè potevi potevi usare ma non lo so potevi fare di tutto ma perché il 3-5-2 cioè questa è l'unica cosa che mi irrita perché per il resto sono deluso più che incazzato perché ancora una volta ragazzi niente salto di qualità ancora una volta c'è la possibilità comunque di battere un record o comunque un tabù da sfatare che dura da diversi anni non si vince non si vingono le prime tre giornate dal 1976 quindi rendetevi conto e non si fa un cazzo ancora una volta perché ste piccole di merda ancora una volta ci fermano e ogni volta ogni anno è così attenzione ribadisco il Lecce ha meritato tranquillamente ma ora per i tifosi del Lecce che verranno sotto questo video a insultarmi magari anche a sfottermi a sfottogli accetto chiaramente non mi venite a dire non mi venite a dire che era difficile che il Lecce è una squadra che ha fatto bene nelle prime giornate cioè ragazzi il Lecce è disastroso da quello che si è vista nelle prime due giornate oggi è giocato benissimo ma perché noi con il 3-5-2 non giriamo con le piccole ma è un dato di fatto Verdi e l'Axalt ecco poi chiudo il video questione chiusa Walter Mazzari 4 lo ripetisco 4 Mazzari faccio come donato in inglese così cosa altro c'è da dire c'è da dire che Verdi e l'Axalt se non sono in condizione adesso mi sembrano già devastanti cioè l'Axalt ha fatto le buche mi piace questo ha fatto le buche cioè l'Axalt è stato devastante rapido veloce imprevedibile buono con i passaggi intelligente tatticamente a me è un giocatore che è pazzesco è un giocatore che mi piace moltissimo ha una 10-1000 l'Axalt e non parliamo di Verdi Verdi ha messo più paloni buoni lui che Berengueri in tutto il primo tempo e ha giocato neanche 20 minuti Verdi cioè se Verdi e l'Axalt oggi non erano in condizione fisica non me l'immagino quando avranno una condizione fisica adatta invece cioè saranno delle robe assurde incredibili infermabili detto questo io non voglio più vedere questo 3-5-2 è così o se lo devi usare ma usalo contro il Milan usalo contro l'Atalanta ripeto che funziona infatti a Bergamo abbiamo vinto col 3-5-2 ed era perfetto ed era perfetto era quello che dovevi fare ma oggi perché il 3-5-2 punto non ho il patentino però mi sento in dovere di criticare questa scelta di Walter Mazzari francamente incomprensibile sotto il mio punto di vista io spero che in questa analisi insomma non sono entrato nel dettaglio tecnico-tattico però insomma cosa c'è da dire di questa partita centrocampo sì insomma sapete cosa Lecce se l'è giocata sulla velocità di manovra se l'è giocata sui contropiedi e con Gigi a coordinare la difesa chiaramente poi è un problema e Gigi si permetteva anche di fare il fenomeno verso la partita quando c'era recuperare un risultato chiaramente svantaggioso sotto tutti i punti di vista tanti dubbi anche sul rigore anche sul rigore però francamente non voglio attaccarmi al rigore assolutamente per nulla una partita che se avessimo perso 4-1 nulla da dire cioè è vergognoso ragazzi con Lecce in casa non puoi perdere 2-1 non puoi al di là del fatto che il Torino storicamente ha problemi con le piccole non puoi per non parlare per non parlare che io fino al primo tempo scrissi questo è un Carpi 2.0 vi ricordate nel 2015-16 il Torino volava prima posizione in classifica tutto bello 2-1 a Carpi prima vittoria storica in Serie A del Carpi contro il Torino e adesso Lecce 0 gol segnati 2 gol contro il Torino su Tapini ragazzi è assurdo ed è colpa nostra non è sfiga non è bravura degli avversari lo è in parte perché Lecce comunque ci ha messo in difficoltà ma si sfiga nei meriti nostri basta analisi di 14 minuti abbastanza lunghetta spero insomma sia stato di essere stato abbastanza esaustivo ci vediamo per Sampdoria Torino questa settimana sarà veramente dura da passare sarà una sconfitta anzi è una sconfitta al presente difficile da digerire per tutti noi i tifosi Granata speriamo di andare a Genova e di fare un risultato positivo quantomeno un pareggino o con questa Sampdoria in crisi insomma una vittoria potresti strapparla però francamente questo Torino dovesse perdere non mi sorprenderebbe di conseguenza vediamo parecchio altalenanti parecchio altalenanti sempre forza Toro dai ragazzi fine non c'è niente altro da dire ciao ci vediamo per il prossimo video